Sono proprio fortunati i nostri mariti comunque, guardate, guardate Le schiave Niente ragazzi, ma è attuale che non posso leggere, devo vedere il film con lui È importante Basta, molto importante stare insieme, basta che non duri troppo Perché oggi è una delle prime sere che le bimbi avevano letto Ah ma tranquilla, solo quattro ore ce l'ho Solo? Quattro ore, sei tranquilla Sei matto? E chi fa un po' dei ragni? Oh fresco di zona, ti ho fatto paura Dillo che ti ho fatto paura Mi senti scaricato sul telefono Eh sì, nipotini, è proprio vero, fortunati questi mariti Belle mogli, bei figli Oggi le abbiamo viste tutte e due, Ludovica e Beatrice a lettone con i loro figli a divertirsi Buona giornata a tutti